Con il numero 4 Antonio Ciccarelli, con il numero 5 Leonardo Mascia, con il numero 6 Luca Cuzzano, con il numero 7 Domenico Cortopasso, con il numero 8 Salvatore Ferrandino, con il numero 10 Facundo Bordare, con il numero 11 Luigi Martirelli, con il numero 12 Antonio Capodosto, con il numero 13 Antonio De Rosa, con il numero 14 Michele Riecono, con il numero 15 Mattia Berrilla, con il numero 16 Marco Scarpetto, con il numero 16 Marco Scarpetto. È stata una partita molto combattuta, il meteo non ci ha aiutato tanto nelle impostazioni, nel fraseggio di gioco, però noi abbiamo sempre cercato di portare a casa la vittoria. È arrivato un 2-0, penso a mio avviso meritato, adesso aspettiamo il ritorno e vediamo il da farsi. La partita è andata a livello tecnico non come ci aspettavamo, però è un buon risultato, ha condizionato un po' la settimana che non abbiamo vissuto al meglio, via le fatiche che ci hanno portato via i pleoni. Però ora ci attrezziamo, prepariamo bene la settimana e andiamo ad avvertrarla, con la speranza che le cose vadano per il verso giusto. Grazie. 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 Grazie.